...e ha preso in via in questi istanti questa 6.000 in linea ad eliminazione riservata alla categoria Lino e Senior Maschi. Come detto, 24 giri da superare, il numero 24 è stato superato dai concorrenti pochi istanti fa. Tra breve per loro il montagiri evidenzierà i 23 giri alla conclusione. Meno 23 partendo da questo istante. Una campana sarà necessaria a mettere il numero 20 per settore nazionale. Solo al numero 19 che aveva prima eliminazione. Meno 22 dalla conclusione partendo da questo preciso istante. Stanno avviandosi a superare anche il traguardo del 91. Cosa che avviene in questo momento, sul prossimo passaggio, Meno 20, sentiremo sfidare la campana. Meno 23 avremo la prima singola eliminazione. Gli atleti che stanno percorrendo il gruppo di curve dell'impianto sportivo di Merate che sentiranno tra breve a Meno 20 dall'impianto sportivo della campana, come vediamo anche dall'arresto del 52 e ad annunciare a tutti loro che sul prossimo traguardo abbiamo un 19, una singola eliminazione. Liminazione, Meno 19, attenzione ai atleti. La prima eliminazione sarà sul prossimo traguardo, cercato a Meno 19 al termine. Un po' ancora compatto, quindi incerta la posizione di cui dovrà essere eliminato, lo vedremo insieme. Viene eliminato il concorrente numero 248, Valli Saverio, che si deve fermare perché la sua gara finisce qui. Quindi eliminazione per il concorrente 248, Valli Saverio. E adesso avremo ancora un po' di ruoto perché la campana ritornerà a sfidare a Meno 16. Quindi Meno 18, appena superato dai concorrenti che si mantengono ancora in gruppo. Stiamo avvicinando a Meno 17, raguardo che viene superato adesso dai concorrenti ancora agruppati in una coordinata preghiana. Prossimo preghiana, prossimo preguardo a Meno 16, risentiremo la campana. Campana che torna a sfidare per gli avvicinati, perché a Meno 15 avremo la prima ulteriore eliminazione. L'eliminazione in corso su questo passaggio a Meno 15, attenzione a preghiana, eliminazione a Meno 15. Viene eliminato il concorrente numero 148, Vallotta Salvatore. Vallotta Salvatore numero 148 si deve fermare perché è eliminato il traguardo dei Meno 15. si viene intanto a un momento il concorrente numero 19, Mauro di Luca. Munizione per il concorrente numero 19, Mauro di Luca. Dobbiamo rispettare la cadenza che abbiamo eseguato prima, quindi la campana tornerà a sfidare a Meno 12 giri dalla confusione. Siamo già in prossimità di Meno 12, quindi sentiremo, come detto, sfidare la campana su questo passaggio che annuncia la prossima eliminazione, a terza eliminazione a Meno 11 dal termine. La terza eliminazione avverrà sul prossimo traguardo, in cerradire a Meno 11 dal termine. L'eliminazione in corso per Meno 11 dal termine. Pozzoni Andrea. Occhio, è alta, occhio! Viene eliminato il concorrente numero 221, Pozzoni Andrea. viene eliminato il concorrente 221 Pozzoni Andrea che si deve fermare qui abbiamo dovuto ricorrere come anche in altri casi la precedenza proprio a Fotofinis per evidenziare la fretta che viene eliminato perché è davvero una questione di pochi minuti eliminato il concorrente 221 che si deve fermare 7 concorrenti ancora sul percorso il Vito lavorata è riservata solamente a 3 atleti rimasti ancora in gara quindi dovremo dar vita ancora a 4 eliminazioni 8 g al termine sul prossimo passaggio con il filo della campana quindi prossimo traguardo avremo un'altra eliminazione pagata meno 7 attenzione a 3 7 giri al termine eliminazione in corso viene eliminato il concorrente numero 31 Lazzarini Giacomo che si deve fermare che è eliminato al traguardo dei meno 7 adesso rispettiamo ancora la stessa cadenza dei passaggi precedenti quindi scenderemo squillare la campana meno 4 ma da lì fino all'ultimo giro ci sarà un'eliminazione quindi da meno 4 e poi tutti i giri avremo un'eliminazione e ammunizione per l'atleta 652 Tarrico Gabriele e ammunizione per l'atleta 312 Proverbio Simone sperando anche il traguardo di meno 5 4 giri al termine sul prossimo traguardo squillare la campana e poi ripeto attenzione a preti ad ogni passaggio successivo quindi meno 3 meno 2 meno 1 ci sarà eliminazione Cattana di meno 4 6 atleti ancora in gara 3 in azione ancora che dovranno vivere i loro momenti il primo momento sarà sul passaggio del meno 3 quindi sul prossimo traguardo l'ha eliminato l'atleta viene eliminato il concorrente 601 Maggioni Andrea si deve fermare altra eliminazione al vicino termine eliminazione 2 dal termine viaggiano tranquilli il quartetto di testa perché c'è una cosa ed è il concorrente la 219 non rilutra che si deve fermare prossimo passaggio sarà l'ultimo giro squillare la campana dell'ultimo giro avremo l'ultima eliminazione in gara Taricco Zani Proverbio e Termini uno di questi non risponderà la barra finale viene eliminato il concorrente 53 è iniziale quindi lavorante a finale verrà disputata tra Taricco Capriere Zani Luca e Proverbio Simone vi vediamo uscire insieme dalla curva per lavorante a finale in questo sprint conclusivo le utili energie importantissime per tagliare tre guardie credetemi un applauso è più che meritato per tutti